Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Bersara e oggi siamo su un altro gioco di Roblox insieme a Nadia Grazie mille, ciao ragazzi Allora, in questo gioco, se non ho capito male le regole, ho visto che ci sono i Rebirths, non so pronunciarlo E c'è la velocità di quanto tu vai veloce Allora, io penso che bisogna prendere questa rampa, lanciarsi per poi arrivare più lontano possibile e prendere i soldi Io penso di poter comprare già la speed Oh, l'ho già fatto, aspetta, la compro due volte Ok, ora voglio vedere se vado molto veloce Ma non è che cambia molto in realtà Sì, vado più veloce Oh mamma mia, caspiterina, sono arrivata lontanissima, sono arrivata a 640 Te, quanto sei arrivata? 217 Devi comprare un pochino, io ho già iniziato a comprare e sto diventando wow L'ho comprati già 4 Guarda, vado velocissima E mamma mia, sono arrivata lontanissima Le 499 Sì, ti giuro, sono forti Ah, intanto guarda i Rebirths che costano 10 speed Ah, 10 10 speed non è poco Quindi devi fare tanti Rebirths I Rebirths servono per queste cose qua Tipo i trails Vai, ce la possiamo fare Oh mamma mia Sono arrivata la seconda zona Sono a 2158 studios Eh, tanto Ti giuro Una striscia arancione Alla terza zona sei arrivata? Sì Non ci posso credere Ma com'è possibile? Ti ho superato Ti ho superato, guardate Ora ti devo battere tantissimo Adesso arriverò il triplo più lontano di te No, mi sa che è un po' esagerato Però sono a un quarto della striscia rossa Ma va bene, lo stesso Ti devo superare Io faccio schifo però Non so quando saltare Ma non devi saltare Salta da solo tanto Ah, da solo, va bene Ecco, sono arrivata la striscia arancione Oh, sono arrivata anche la striscia arancione chiara Ma com'è possibile? Ti giuro Ah, ma se tengo la visuale un po' più indietro Magari vedo qualcosa di più Anche se non si vede il mio personaggio Ma io direi Tanto è poco importante il mio personaggio Arrivo alla striscia Arancione chiara anch'io Ok, io ho comprato un sacco Io sono a... Vai, volo Vai Striscia arancione chiara superata Striscia gialla scura Gialla Sono la gialla E poi dopo c'è la gialla chiara E ho un sacco di soldi Vedo Fantastico Quanti torini che ti sono qui Quanti big money Comunque andiamo Andiamo se superiamo la Sara Vai Non è vero, non mi supererai mai No, ma volo fuori Volo fuori Volo fuori Ah, no, non è vero C'è il muro, ok Andiamo a vedere in che colore arriviamo 16,146 Ma come? E' superata Come ti permetti? Io mi permetto Non ci posso credere Sono arrivata a 18.600 E qualcosa Perché mi è sparito il numero da davanti Però era fantastico Cos'è questo? E' superata Oh, c'è una cassa Posso claimarla? No, non è vero Vabbè, speravo che potessi claimarla Speravi Eh, ci speravo, ci speravo Sono fortissima Ok, ma che arriviamo lontanissimi Allora Sono a 25k La 26k Io sono a 21 È illegale Non serve Perché non ho i soldi Cioè, sì, in realtà ce li ho Però li voglio prendere tutti insieme Diventerò più forte di te Cioè, sto rimbalzando di testa Poverino Il mio personaggio Sta per esplodergli la testa Dopo gli vedi La pronocchi probabilmente Cosa sei? Sono la skin gialla La skin gialla Beh, io direi che Sei talmente veloce Sei diventato God di Roblox Vai, perfetto Vai, andiamo Non c'è bisogno di avere la propria skin Per diventare fortissimi A parte che ti ho visto Sei un puntino E sono arrivata tipo 30.000 30.237 Nuova riguarda Allora, io direi Compriamo qualcosa qua Del tipo Ho finito i soldi Però Non ci interessa poco Sono fortissima adesso La voglio vedere dove arrivo 23.000 26 30.000 No, mi sa che non arrivo Molto più lontano però Sono arrivata a 33.000 E io direi Proviamo a comprare Vai L'ho comprato Dobbiamo comprare 11 speed Per fare il prossimo rebirth Io sto guadagnando Un sacco di soldi Solo facendo 220 di stud Io penso In personaggio Ho preso una facciata Ok Ok, direi Compriamo Qualche speed Sono a 10 speed Direi Buttiamoci Facciamo qualche soldino E ricaviamo Oltre due speed Faccio 4.000 score Io penso di avere Abbastanza soldi Per riuscire a comprarmi Ho un altro speed Io faccio subito rebirth Vai Subito Sono velocissima Voglio fare un sacco di rebirth Sì, sì, sì Un sacco di rebirth Ok Voglio Oh, ma aspetta Ma io posso Permettermi la codina Oh C'è un codino arcobaleno Siamo codati Ho 3.000 soldi Senza aver comprato Neanche uno studs Oh, no Come si chiamano? Gli speed Quindi direi Compriamo Quanti speed posso Adesso voglio arrivare A fare il prossimo rebirth Se andiamo avanti Vediamo se riusciamo A arrivare fino in fondo Oh, ma sei tu che sei volato? Sì Così tanto Sono al giallo Vai Arriviamo lontanissimi Arancione Arancione chiaro Giallo scuro E niente Vai È bellissimo Vai, ok Non ho saltato Vai Salta da solo Ma in fondo Sono tutti i colobri Dell'arcobaleno Sì Fantastico Voglio arrivarci in fondo Non mi ha saltato Vabbè Salta da solo Sono a 15.000 Ok A quanto sei arrivato Di stud? Volo Aspetta Giallo Giallo Chiarissimo Te lo sobrano Sicura? Sì Ti giuro Ah sì E vedi la mia riga Sono arrivata al verde Verde chiaro È il mio colore Verde Sì Al verde sono arrivata È un verde chiaro Però sono arrivata al verde Sono fiera di me stessa Corriamo Ti devo superare tantissimo Voglio arrivare alla fine dell'arcobaleno Così tanto Ci sarà una fine all'arcobaleno? C'è una fine sicuramente all'arcobaleno Eh c'è sempre Ci sono i soldi Io metto Dici che ci saranno anche Anche quindi Delle ricompense se arriviamo in fondo Oh possibile Non vedo l'ora di scoprirlo Sono arrivata a 41.000 No Sono tornata indietro Sono arrivata a 41.000 È l'azzurro Sono felicissima Sono lontanissima Voglio superare Vai Vai Sì Volo Ti vengo dietro Volo E ti volo un po' troppo lontano Mi rimbalzo Hai visto? Hai visto dove sono? Sono al verde Eh sì vabbè Io sono al celeste Sono lontanissima Non vedo nemmeno più le tonalità di colore Sono a 46.000 Sì però al punto che rimbalzo davanti E torno indietro Non va bene Oh mi dobbiamo Sono arrivata Al viola Io il verde è chiaro Perfettamente il mio colore A 73.000 Fortissimo È entrata un'altra persona Yeah Oh amico Oh no Sono al blu Quasi Mi si è rotto Ho rimbalzato un'altra volta Sono tutti rotti qua i numeri Sono rottissimi Eh perché sono lunghi Mamma mia Sono arrivata a 5 milioni di soldi Tanto Ho 5 milioni Quindi con 7 milioni posso comprarmi 100 speed Ah Interessante a sapersi Vediamo se riusciamo ad arrivare a comprare 100 speed Dici che ce la faccio Sì Sono a 6 milioni 129 Ho superato il mio colore Sono a rosso Oh E posso comprarmi 100 speed Vuoi vedere adesso Superiamo Superiamolo Vai Adesso ho fatto 129 Sì Sto Sono in altissimo Sto scendendo adesso Che sono a 300 gli stud 400 500 Ho tirato il colpo per terra Sono di rimbalzo 80 Mamma mia Quanto sto andando avanti Sto volando Sono a 700 100k Mamma mia E' tanto però Sì 800 Sono a 800k Si sono rotti i numeri Non ci posso credere Ah sono tu Adesso l'hai visto Da me sono rottissimi Sono a 930 Oh ho finito di rimbalzare Sono a 939k Oh mio dio Guarda I miei stud Sono potentissimi Sono rottissima Facciamo l'ultimo santo Tanto per vedere E vabbè volo Ma bello Che non ho ancora finito Di saltare Anche io Io sono al primo rimbalzo Sono un milione Eh sì Anch'io al primo rimbalzo Sono un milione 30 38 30 50 mila E non ho ancora finito Di rimbalzare Sono arrivata a 2 milioni Non ci posso credere Sono arrivata lontanissimo E non ho ancora finito Di rimbalzare Sto colpendo i muri A destra A sinistra Io non ce la posso fare È finito 2 milioni e 11 E il secondo rimbalzo Sarà il quinto rimbalzo Sesso Io tipo Oh sto tornando in peso Non so tipo Sto volando l'infinito e oltre Sono arrivata a 2 milioni Oh non ho perso il conto No sono l'infinito e oltre Cioè guarda 2 milioni e virgola 1 Fantastico Allora Io direi che per oggi Possiamo finire qua Anche perché Sennò arriviamo a volare Per delle ore Anche se è bellissimo Poi guarda che carine Poi tutte queste strisce Wow Tutte colorate Ricordatevi di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Attivare la campanellina Per non perdervi nessun altro video E nulla ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao